Musica Musica stai tranquilla signora che stanno arrivando, ok? aiuto mi fa male perdi tanto sangue non è col vol mio però eh, vai tranquillo non ti conosce neanche, allora, come ti chiamo? però non ho persone che... allora in questo momento ho fatto fatica a portarti perchè non ho neanche io se mi serve aiuto per trasporto come conchieri veniamo a darvi una mano avrete da destinare in più? si, uno o due dobbiamo venire scusi, chi signore resti io ad aprire la conchiera senza delle voci finire all'interno? dentro di voi, dentro? chi hai dentro? vediamo qui qualcuno del 118 che sono in sette feriti non sei preoccupato, non sei preoccupato, non sei preoccupato, vieni qua è un infermiere che mi dà una mano che... ehhh... chi è trovato? è che mi posso, che entrura... che si si trovo... si si, lo resti lo resti, lo resti come ti chiamo? Manuel? ok... Manu come va? Fa male, fa male. A parte la gamba. Ruota e appoggiamo sulla pedana. Appoggiano piano sulla pedana. Atenzione alle mani. C'era il marito che stava guidando, c'era il marito sul posto di guida. Ah ok. Ok. Mi sento Stefania? Un sanitario veloce. Era l'autista questo? Sicure? Quanto sicure? Però non deve scappare. Però non deve scappare. Aiuto! Allora, per ora io vi sono stati tutti qua. Post incubazione, i parametri sono stabili, ha un 98 di saturazione. Buonissimo. Il codice di uscita ha? Verde. Verde. E dove va? San Vito. E dove va? San Vito. E dove è? San Vito. Ci sono stati, non ho piacere. Grazie a tutti.